ben tornati e benvenuti a tutti amici e amiche carissime a questa quattordicesima puntata del ciclo di catechesi dedicate alla nostra ormai cara tenera amata ci siamo lasciati la volta scorsa la puntata precedente con un nuovo viaggio o meglio un nuovo approfondimento dettagli ulteriori di questa quinta dimensione che abbiamo visto costituire un ulteriore trascendentale dell'essere ogni ente in quanto ente è uno vero buono è bello ma è anche eterno e tenera amata ha cominciato a introdurre meglio riccardo dentro questo mistero nonostante le reticenze e le resistenze evidentemente della sua intelligenza che fa difficoltà a percepire questa realtà e quindi vedremo che oggi siamo nel capitolo quindicesimo del libro tenera amata riprende anzitutto cerca di continuare ulteriormente ad aiutare ecco l'intelletto di riccardo a fare questo step anche se poi gli spiega guarda se non ci arrivi non ti preoccupare questa non è una cosa necessaria per la salvezza è un di più che il signore ti sta donando in questo momento quindi se non ci arrivi pazienza tanto l'importante è che questo sarà un'indicazione che sarà utile anche per tutti noi no cioè su tante cose che non ci arriviamo quando non sono essenziale alla salvezza e tante volte mi sento oppure mi trovo costretto ad esortare qualche anime sotto questo punto di vista di guarda non ci stanno fare troppe domande di cose che sono più grandi di noi ecco la cosa fondamentale è che diventi santo perché poi un giorno che andrà in paradiso tante cose tante curiosità anche legittime che tu hai ma che magari non si non si riescono a soddisfare in questa in questa vita saranno poi dal signore esaudite questa è sempre una cosa principale e più importante su cui dobbiamo far convergere la nostra attenzione quindi l'importante arrivarci in paradiso poi lì sapremo anche molto altro rispetto a quello che il signore comunque ci dona ci gustiamo però queste cose perché ovviamente premessa fondamentale ha il cuore aperto e vorrei anche fare una piccola premessa ogni tanto commenti o cose io non sono uno scienziato d'accordo quindi quando mi trovo a contatto con dei concetti scientifici che teneramata affronta come dire cerco di anch'io con difficoltà di assimilarli di interpretarli alla luce delle limitate condizioni e cognizioni scientifiche che ho perché purtroppo anche se mi sarebbe tanto piaciuto non ho approfondito nella fisica nella chimica nella biologia nella matematica l'ho spiegato la volta scorsa quindi non è molto utile cioè lo capisco ma che mi si venga a scrivere nei commenti o altre cose guarda che questa cosa non l'ha detto lo scienziato x l'ha detto lo scienziato y non è proprio così lo so già prima quindi non cioè se dovessi prima di fare questo ciclo di catechesi acquisire tutte le competenze scientifiche necessarie per poterle spiegare adeguatamente ci metterei 50 anni per farlo perché non mi piacerebbe tanto riprendere tante cose ma non c'ho il tempo non c'ho quanto mi piacerebbe andare a studiare la biologia molecolare gli atomi l'astrofisica le galassie gli universi cioè non c'è il tempo non ce l'ho quindi c'ho le cognizioni grazie a dio il signore mi ha lasciato qualche reminiscenza perché con tutto il bombardamento a cui sottopongo le mie poche vere facoltà spirituali al mio cervelletto già troppo quello che mi ricordo quindi è evidente che su questo sarò lacunoso ecco quindi è molto imperfetto e probabilmente non non si riusciranno a risolvere tutti quanti i quesiti però non è il mio ambito di competenza ciò nonostante mi sembra il caso di tentare e procedere con una lettura con un approccio che cerchi un po di raccapezzarsi qualcosa in questo bellissimo mondo basta adesso con le chiacchiere cominciamo la lettura del quindicesimo capitolo parla teneramata vedo nella tua mente disse teneramata con accento di rassegnazione che fai molta fatica ad astrarre l'idea dell'eternità degli esseri è che pensi tutto in funzione del momento presente del tempo normale della terra su sforzati il tuo corpo integrale e non soltanto quello che possiedi attualmente si conserva intatto nella grandiosa bottega del tempo passato mi dispiace teneramata sono molto stupido poverino non preoccuparti mi disse affettuosamente tutti soffriamo di questo acciacco tuttavia per la tua salvezza eterna vedete non hai bisogno di conoscere l'essenza del tempo né dell'eternità creata ti bastano la fede e le opere di amore di carità però insisto l'anima umana permane unita al suo organismo totale corpo biologico di embrione feto neonato bambino adolescente giovane adulto e anziano otto ce ne sono mica uno quello che accade non si annichila sussiste eternamente nello spazio tempo e conserva l'atto di esistenza ripeto primo step primo primo pit stop questi concetti se uno ha una adeguata idea filosofica e teologica di ciò che dio è sono ineccepibili è impossibile ma questo lo sappiamo anche dalla lo sappiamo anche da quello che luisa piccarreta ha ricevuto come rivelazione da dio sulla divina volontà non è possibile che una cosa che in qualche modo sia coinvolta con la divina volontà cessi di essere ora amici cari il fatto stesso che io adesso sto parlando questo per chi non conosce gli iscritti di luisa piccarreta chi ascolta lo invito ovviamente a farlo parte il fatto che prima di luisa piccarreta te cose vedete santo maso da guino quindi io faccio riferimento a lui allora io tu che mi stai ascoltando ci sono e sto facendo quello che sto facendo adesso per due motivazioni principali primo perché dio mi ha creato ha creato la mia anima che sia unita a questo corpo che biologicamente io ho preso dal mio padre da mia madre ma non è finito qui io adesso sto parlando e sussisto nell'essere perché perché la provvidenza di dio così si chiama tecnicamente in teologia che non è la provvidenza che noi conosciamo dire dio provvede nel senso che non c'è niente da mangiare mi farà trovare qualcuno che mi fare le mosi per farmi mangiare questo è una come dire è un concetto corrente di provvidenza ma la provvidenza universale di dio non è altro che la sua operazione ininterrotta attenzione di conservazione nell'essere di tutto ciò che è cioè non è che dio ma soltanto creato dio mi sta mantenendo nell'essere tutto quello che faccio perfino quando pecco adesso lo spiego in che senso è possibile per questo atto di mantenimento di me che dio fa nell'essere altrimenti io non è che morirei ritornerei nel nulla da cui sono uscito ora il problema è questo qui che quando dio dà l'essere a qualcosa non lo ritrae mai per questo che il diavolo ancora sussiste e non è distrutto da dio perché una volta che gli è dato l'essere stop cioè una creatura può corrompersi può diventare la più bestia che rara che esista ma l'essere lo avrà sempre capito quindi è ovvio che l'atto che io sto facendo adesso le parole che sto dicendo le sto dicendo in quanto la divina provvidenza mi sta mantenendo nell'essere quindi è coinvolto dio in quello che sto dicendo non nel senso che approva tutto quello che dico perché potrei anche per questo momento dire una parolaccia e certamente dio la parolaccia non la prova manco per niente quello è un peccato quello lì quindi cioè dio quella cosa lì la odia la detesta ma ma io ho potuto dire quella parolaccia non le dico le parolacce facendo un esempio tanto per dire guai cioè se un prete dice parolaccia per quanto mi rigua guai anche anche un laico è però un prete a doppia ragione soltanto perché sono mantenuto nell'essere ora come vedremo più avanti questo atto è un atto cattivo per cui nella mia eternità creata se io sarò un beato non lo ritrovo questo atto cattivo perché la misericordia di dio lo cancella d'accordo andremo più avanti perché ci cominciano a fare un sacco di domande anche molte persone che fanno domande cioè i moderatori anche su dei commenti su youtube poi si impazziscono a pazienza perché andando avanti nella lettura molte domande che vengono fatte anche al termine della diretta poi troveranno risposta bisogna avere pazienza procedo eh se perdura vivente il mio organismo integrale con tutti i miei corpi materiali dice riccardo perché non posso vederli te lo spiegherò con un esempio allo stesso modo come in un'elica pieno regime di giri è impossibile distinguere le pale e appena si percepisce un tenue disco a causa della grande celerità così nell'istante attuale non si riesce a vedere in modo isolato le materie gli avvenimenti e le circostanze che costituiscono l'organismo umano totale si vede soltanto il corpo che corrisponde ad un determinato momento presente tuttavia se diminuisce notevolmente la velocità come succede in questo paratempo allora riesci a vedere il tuo corpo di ragazzo molto presto constaterai questo che ti dico l'apparente contraddizione tra il tuo organismo di adulto di fronte al tuo corpo di bambino è dovuta alla falsa immagine che ti formi nelle cose a causa del legame della tua coscienza col momento attuale questo ricorre come un mantra allora faccio un altro step perché io non posso percepire la realtà che il mio corpo di bambino sta sussistendo perché è bellissimo questo esempio se tu vedi un'elica che gira a tutto volume tu non vedi le pare delle eliche è un esempio molto molto bello tutti quanti l'abbiamo visto pensiamo a quando girano le turbine di un aereo se sono ferme si vedono tutte quante quelle cose quelle zigrinature ma se il reattore comincia a girare con il reattore con la velocità a cui gira non vedi proprio niente però ci stanno allora se tu le mandi al rallentatore quindi se tu le diminuisci allora se io riprendo con la cinepresa un'elica che gira e poi la proietto al rallentatore quindi fortemente rallentata vedremo che ste eliche stanno girando ma devo andare molto al rallentatore ora noi non abbiamo la possibilità di azionare il rallentatore capite? fino a quando siamo in questa vita mortale perché io adesso cioè se voi stesse davanti a me il mio video davanti 13.14, 13.45, 13.46 è il tempo che scorre 13.48, 13.49 sono i secondi? io non posso collegarmi in un miliardesimo di picosecondo non lo posso fare dice tu lo stai vedendo perché ricordati in quale paratempo ci siamo collegati stiamo in una frequenza assolutamente inaccessibile alla natura umana del viatore ecco perché lo vedi capito? te lo dico con un'altra similitudine allo stesso modo che in una ripresa cinematografica la pellicola va passando attraverso la cinepresa per ritrarre le immagini così l'organismo dell'uomo al modo di un lungo nastro di celluloide qui parla delle pellicole ancora di un tempo non certamente delle macchine digitali che girano adesso va passando per la camera fotografica del momento presente registrando per sempre ciò che è avvenuto in ogni spazio e tempo capite? è come un film che è come una una proiezione continua è come se noi stessimo continuamente sotto una webcam d'accordo? che registra tutto con questa sola differenza che in questa grande realtà oggettiva non si tratta di fotografie non è un film ma della conservazione reale degli eventi niente sfugge e tutto perdura perciò puoi contemplare oggi lo spazio e tempo dei tuoi otto anni di età potremmo definirlo un film reale mi assomiglia un po' forse st'immagine ormai non ricordi con precisione ciò che facesti quest'oggi dieci anni fa io non mi ricordo ma che l'ho fatto l'altro ieri immaginiamoci no? tuttavia ciò non è stato soltanto conservato come in una registrazione quindi non è che tu ti rivedi un film ma rimane vivente nel prodigioso archivio dell'eternità creata non è che tu semplicemente vedi un film tu lo puoi rivivere e vedremo che più avanti Teneramata dice lo puoi rivivere e anche alterare come dire manipolare modificare e come il film può essere proiettato in tante diverse occasioni così il Beato può contemplare qualunque scena del suo passato storico e di nuovo vivere ma senza nessun dolore attenzione i fatti eternamente reali e viventi della propria storia sia terrena che celeste questo ci dobbiamo fare in un quadretto ripeto come il film può essere proiettato in tante diverse occasioni così il Beato parla di Beati qui i dannati queste cose qui non le vivranno può contemplare qualunque scena del suo passato storico e di nuovo vivere ma senza nessun dolore i fatti eternamente reali e viventi della propria vita sia terrena che celeste ripeto qui parla dei Beati dannati nisba di questa roba qui poi ci arriveremo anche a questo tali esperienze redivive si ottengono in altre onde temporali differenti da quelle già vissute questo lo potrai intravedere meglio quando ti descriverò un po' un'altra volta la sesta dimensione io sta descrizione della sesta dimensione questo libro l'ho letto 5, 6, 7 volte adesso vediamo se con questa lettura più approfondita e commentata riuscirò perché non l'ho colto perché non mi sembra che procedendo però potrei non ricordare bene lei dice adesso ti parlo della sesta dimensione è questa probabilmente ne parla in qualche passaggio cercando di farlo capire ma io non me ne sono tanto accorto a occhio a me questa sesta dimensione mi sembra insomma assomigliare all'eternità increata ma non ci metterei la mano che è quella di Dio ma non ci metterei la mano sul fuoco ecco vabbè quanto a te poi il tuo corpo è cambiato ma solo rispetto all'istante attuale fisicamente e sostanzialmente ricordiamo concetti già visti no? nell'arco di una vita si fanno almeno sette cambi in cinquant'anni di vita ogni sette anni c'è un ricambio praticamente integrale di tutte le nostre cellule tutte quindi cioè il mio corpo oggi non ha le stesse cellule di quando ero bambino però la conformazione estetica del mio corpo è rimasta sostanzialmente immutata capiamo anche l'altro grande concetto filosofico che la chiesa aveva fatto proprio che l'anima è la forma del corpo la forma sostanziale del corpo cambiato non la tua anima essa cambia l'anima solamente in quanto che conosce prova e assapora le esperienze della vita dice Riccardo e dice una grande cosa io mi sento il medesimo sebbene il mio corpo sia modificato provate a pensare chi sta ascoltando vi sentite le stesse persone cioè ti riconosci che sei tu in tutte le fasi della tua esistenza la risposta generalmente dovrebbe essere sì e come mai se ci sono stati tutti quanti questi cambiamenti te la madre risponde ti senti il medesimo perché hai una sola anima spirituale libera indivisibile e immortale la quale ti ha animato da che eri una cellula uovo l'anima viene infusa immediatamente e l'anima che sta animando me adesso a 51 anni è la stessa identica di quella che animava lo zigote perché noi siamo stati tutti uno zigote la cellula uno due gameti questo non lo ricordo abbastanza bene no due gameti si incontrano dopodiché c'è la divisione dei cromosomi metà maschili e metà femminili e si formano cioè la scissione si formano da due gameti uno zigote lo zigote è la nuova creatura già con il patrimonio genetico stabilito dentro la cellula uovo e già con l'anima ecco perché attenzione parentesi morale peccato gravissimo più di tutti quanti gli altri mezzi contraccettivi l'uso della spirale perché la spirale non impedisce la concezione quindi l'incontro tra i gameti e tra l'altro una donna che porta la spirale potrebbe aver ammazzato perché si tratta di ammazzare non si sa quanti zigoti perché la spirale impedisce non la concezione ma l'annidamento ostruisce le tube e quindi la cellula fecondata non può andarsi ad annidare nel posto suo e muore e tu però non lo sai cioè è come la pillola del giorno dopo la pillola del giorno dopo però è più grave perché chi prende la pillola del giorno dopo ha proprio come intento volontario quindi di uccidere eventualmente un essere concepito magari se uno è ignorante prende la spirale la usa come strumento contraccettivo non sapendo che quel strumento contraccettivo è in realtà non molto dissimile sostanzialmente dalla pillola del giorno dopo perché la pillola del giorno dopo distrugge qualunque cellula che sia stata concepita e la spirale non la distrugge ma la porta a morire perché ne impedisce l'annidamento quindi pensate che adesso in Francia vogliono scrivere che l'aborto bisogna metterlo tra i diritti non so se costituzionalmente garantiti ma di che cosa capite che significano roba del genere no? la cellula uovo c'ha già l'anima quindi già una cellula l'uomo altro che il grumo di cellule famose e il fatto che tu non te lo ricordi spero che abbiamo cominciato a imparare a differenza della da maledirla cioè l'identificazione della persona con la sua coscienza è un frutto marcio della filosofia post cartesiana cogito ergo sum una delle stupidaggini più grandi che siano state dette nella nella storia della filosofia eppure ha condizionato tutto il pensiero filosofico successivo noi oggi siamo figli di questo e tutti ci credono ancora se una persona se uno ragionando dice ma che problema c'è far secche un grumo di cellule tanto quello non è mica una persona non capisce niente non capisce non sa neanche di esserci che cosa pensate di questo la nostra anima non è la nostra autocoscienza ma questo non vuol dire che non ci sia o il discorso dell'eutanasia che era la cosa opposta ci sta uno che ha preso l'ambrogino lì a a Milano il grande il grande fautore della dell'eutanasia di stato andate a leggere il libro di Gloria Apollo quello sarebbe un altro ciclo di catechesi molto interessanti simili a questo perché questa descrive com'è l'aldilà perché ci sta quella descrive l'esperienza dell'aldilà come una sorta di premorte date a leggere quando lei stava in coma quindi completamente morta d'accordo apparentemente da un punto di vista cerebrale d'accordo quindi senza nessun tipo di coscienza lei racconta che sentiva i medici che dicono che facciamo stacchiamo la spina e lei che come racconta nel libro stava alle soglie dell'inferno pure se si pensava di essere una santarella dice per carità che fate però non poteva comunicare ma lei sentiva tutto vedeva tutto per cui noi pensiamo ah ma devo terminare che problema c'è gli faccio una bella siringa non capisce niente non ci sta con la coscienza gli faccio un favore sei sicuro che gli fa un favore ma come si permette questa gente qui di andare ad entrare in posti che non gli appartengono dietro l'eutanasia c'è la filosofia post cartesiana cioè l'uomo e il suo essere dipende dalla sua coscienza dalla coscienza che ha di sé non è vero questo questo è una stupidaggine grossa quanto una casa non è cogito ergo sum ma è sum ergo cogito cioè non è che l'essere deriva dal pensiero cioè io sono in quanto penso ma quando penso io devo essere cosciente perché se dormo non penso sogno ma capite che significa una cosa del genere ma io penso in quanto sono cioè il mio pensiero io posso pensare perché ho l'anima e perché ci sono ma il pensiero non esaurisce il mio essere uomo perché io dormo e non è che quando dormo sono diventato un cavallo sono sempre un uomo quando 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 dormo e così nel grembo di mia madre non ero un grumo di cellule ero io e se un giorno mi ritroverò in coma in fin di vita sono sempre io non è importante comprendere come dice l'eternità creata e i paradempi per andare in paradiso ma queste cose però sì allora riprendo la lettura ti senti il medesimo perché è una sola anima spirituale libera e indivisibile che ha animato da che che ti ha animato da che eri una cellula uovo cellula uovo zigote da qui siamo partiti in questa piccola digressione a mio avviso opportuna e necessaria anzi necessaria il tuo corpo di oggi si è allogorato col peso dell'età ma la tua anima si è arricchita spiritualmente con gli anni ti senti di sentire San Paolo mentre il corpo interiore l'uomo esteriore si va disfacendo quell'interiore si rinnova in continuazione non so voi ma io ogni giorno che passa mi sento meglio perché mano a mano che se uno mano a mano che si va avanti con i giorni si acquista si dovrebbe proprio dire si dovrebbe migliorare si acquista maggiore esperienza si acquista maggiore conoscenza si spera che si acquisti anche almeno un tanto così di maggiore maggiore tensione almeno verso la santità ecco non diciamo cose troppo grosse almeno per quanto mi riguarda no il tuo essere è il medesimo sebbene il tuo involucro corporale si sia totalmente cambiato il rapporto al momento presente e sai già che non esistono modificazioni dal punto di vista della quinta dimensione tuttavia sei mortale e vivi per adesso nel regime della fede e con la tua coscienza fortemente legata all'istante attuale orbene la tua anima attenzione unifica vitalmente il tuo organismo totale cioè il principio di unità di tutto ciò che sono stato di tutti quanti gli stadi corporei che ho vissuto è l'unica anima spirituale che dice sono proprio io il nome nuovo quello che io sono nella mente di Dio davanti a Dio la funzione che ho per lui il tipo di amore che avrò in eterno per lui e il tipo di amore che chiunque entrerà in contatto con me percepirà e vivrà solo da me e dico da me scusate non voglio fare l'ecocentrico cioè dico da me sostituitelo con il da me di te che mi stai ascoltando è la stessa identica cosa quindi la tua anima unifica vitalmente il tuo organismo totale ma siccome adesso ha bisogno del momento presente per collaborare col Signore e raggiungere il cielo cioè noi adesso stiamo nell'incedere dell'istante attuale perché è in questo istante attuale mano mano che scorre che Dio vuole che tu cooperi con Lui e te lo guadagni il cielo e lo raggiunga perché non ci vanno tutti in paradiso a godere di queste cose così grandi ma non è che ci vanno tutti quanti ci va chi si era meritato fermo evidentemente restando il primato della grazia e la salvezza che ci ha dato il nostro Signore se non ci andava nessuno ha bisogno del momento presente per collaborare col Signore e raggiungere il cielo quindi avviene che il tuo spirito però frattanto vivifica i tuoi corpi attraverso gli spazi tempi che hai vissuto benché tu non te ne sia accorto ecco perché ti è fattibile oggi contemplare il tuo organismo vivo di bambino e ancora Riccardo ma perché non riesco a comprendere questa eternità creata non ci riesce perché la tua coscienza ripeto non ha avuto ancora l'occasione di viverla pienamente soltanto oggi la intravedi per lui è una novità vedendo il tuo corpo infantile ma la tua anima la conosce assai bene come conosce a fondo le tue funzioni biologiche allora devo fare forse un altro step non fa niente se non riusciamo a cioè capite che cosa sta dicendo di nuovo stiamo allora lui con il suo con la sua intelligenza attuale con il suo raziocinio anche con il suo bagaglio culturale che non è indifferente cioè se tipo io non c'è non riesco a capire allora dice tu non riesci a capire ma la tua anima capisce la tua anima la conosce assai bene gliel'ha detto lei così come conosce a fondo le tue funzioni biologiche scusate un attimo no ma che tutti quanti quelli che ascoltano sanno perfettamente saprebbero spiegare per filo e per segno come avviene per esempio il processo dell'assimilazione e della digestione vi ricordate tutto quello che studia la scuola o esattamente tutte le leggi di circolazione del sangue cioè i movimenti di sistole di diastole tutto tutto allora uno può anche imparare tutte le altre queste cose qui deve studiare una vita e se le impara ma scusate un attimo prima che te le sei imparato non funzionano queste cose ma certo che funzionano funzionano da sole funzionano vanno da sole vanno secondo la nostra testa ora gli scienziati metto virgolette gli scienziati con l'h pensano che queste cose siano semplicemente funzioni biologiche cioè che gli organi da soli facciano queste operazioni per i loro non si sa quali meccanismi non funziona così tutto quello che viene dentro di noi c'è un direttore c'è un direttore un organizzatore e un esecutore che è l'anima il cuore batte perché è l'anima che lo fa battere tu digerisci perché è l'anima che ti fa digerire il cuore aumenta e battiti cardiaci perché è l'anima che ci pensa a regolare i battiti o a diminuirli per esempio quando noi dormiamo in base a quello che è il tuo fabbisogno quindi l'anima la tua anima tu o meglio la tua anima sa delle cose che tu non sai che la tua coscienza che la tua intelligenza che la tua cultura non ha non le sa quindi non c'è coincidenza tra coscienza vita cosciente e anima non c'è applichiamo questa cosa ai sacramenti cioè ti può capitare che un giorno per esempio noi sappiamo che dobbiamo prepararci bene ai sacramenti perché? perché dobbiamo fare in modo per quanto possibile che la nostra sfera cosciente partecipi e possa trarre il massimo dei frutti dal sacramento ma il sacramento è il Signore a Chiesa sopra operato cioè se tu ti devi fare una comunione noi non dobbiamo fare le comunioni scellerate mai però se un giorno che ne so sei arrivato a messa all'ultimo momento perché hai trovato traffico quindi non hai la tua intelligenza sei stanco morto sei distrutto quindi partecipi a fare la comunione ma sei distrutto e quindi non ci stai tanto con la testa e quindi non riesci a fare un grande ringraziamento perché se non ci stiamo tanto con la testa che siamo distrutti non ce la facciamo dice allora era meglio che non mi facciano sta comunione no no quella comunione fa bene comunque la tua anima capite? fa bene comunque noi non possiamo vedere gli effetti profondi per esempio anche dei sacramenti sulla nostra anima in quanto anima io spero che riusciamo a capire la nostra coscienza come dire segue le nostre tappe di sviluppo ma la nostra la nostra la tua anima la mia sta animando ora adesso il mio corpo di quando c'avevo tre anni adesso perché è il principio unificante di tutti i miei stati temporali mi sta animando adesso a 51 anni ma anche a 50 49 48 47 46 fino ad arrivare alla cellula uovo e ogni istante riprendo la tua anima la conosce assai bene come conosce a fondo le tue funzioni biologiche cioè perdonatemi capiamo che cosa quanto che cosa grande che era la nostra anima che cosa grande capiamo anche perché la nostra anima è stata affidata alla nostra custodia quando si muore io non mi stancherò mai di dirlo ha tanto a scrivere tutte quelle stupidaggini che scrivono la più grossa è volato al cielo o è tornato alla casa del padre chi te l'ha detto che è volato al cielo o che è tornato alla casa del padre se è morto martire si può scrivere una cosa del genere ma chi te l'ha detto che è volato al cielo e è tornato alla casa del padre c'è il filo diretto col padre eterno chi te l'ha detto oppure le frasi un pochino come dire smielose umane è venuto a mancare all'affetto dei propri cari sì per carità è vero nessuno vuole misconoscere il dolore della perdita ma la cosa che succede con la morte è arreso l'anima a Dio che ci hai fatto tu con la tua anima come l'hai trattata cosa le hai dato l'anima ci da tutto sapete l'anima di che cosa ha bisogno della grazia di Dio più di quanto il tuo corpo c'ha bisogno dell'aria che respiri tutto quello che devi fare l'anima lo fa anche che presiede le tue funzioni biologiche lo fa anche senza la grazia di Dio ma attenzione in paradiso senza grazia di Dio non ci sentra e la grazia di Dio l'anima non se la va a prendere da sola come presiede le funzioni biologiche e conoscere l'eternità creata non gliela devi dare tu con la tua attività cosciente riprendo la tua anima la conosce a sé bene l'eternità creata come conosce a fondo le tue funzioni biologiche e qualcosa dell'eternità creata sa già la tua coscienza per esempio le idee attrastratte e i primi principi della scienza qui dovrai fare un'altra sosta tutto ciò imbevuto di eternità come pure la conoscenza del proprio io personale indipendente dagli spazi tempi materiali perché proviene dall'essenza dell'anima spirituale mi sa che devo fare un altro un altro stop perché forse potrebbe non essere chiaro arrivo al punto quando stai ad ammirare o ad amare intensamente non senti passare le ore è come se tu gustassi in anticipo la pace senza tramonto della quinta dimensione allora le idee astratte e i primi principi della scienza prendiamo i principi base della denologica il principio di identità per esempio è di non contraddizione allora prendiamo questa cosa qui tutti quanti noi anche se siamo ignoranti perché questi sono principi che noi semplicemente quando ci raccontano li conosciamo che sono già dentro di noi non c'è bisogno di apprenderli a scuola d'accordo perché la nostra testa funziona così se io ho in mano questo rosarietto questo è un rosario io non posso dire allo stesso tempo questo è un rosario e questo è un bicchiere perché non si può dire astraendo questo è ha e questo è non ha non è possibile e così secondo principio il principio di non contraddizione io non posso affermare di una stessa cosa nello stesso tempo e sotto lo stesso aspetto due cose differenti e questo è un principio un pochino più raffinante no perché a volte ci sono le contraddizioni apparenti d'accordo cioè io non posso affermare di questa cosa che è un rosario e che è ferro attenzione però la catena di questo rosario prima che venisse fabbricato era ferro d'accordo per cui se io dico che questo è ferro ma non intendo dire che è ferro adesso che è stato forgiato come catena del rosario ma faccio riferimento al fatto che lo era prima di esserlo non sto violando il principio di non contraddizione spero di essere stato chiaro così come i principi fondamentali della geometria euclidea per esempio per un punto passano infinite rette questo lo capisce anche un bambino lo capisce lo capivamo anche da piccoli alle scuole elementari o che due rette parallele non si incontrano mai quindi capiamo attraverso queste cose che c'è qualche cosa di 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 grande di di immutabile di 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 trascendente come pure dice la conoscenza del proprio io personale indipendente cioè gustatelo un pochino cioè ogni tanto chi sei tu ti conosci un po in una maniera il più oggettiva possibile cioè la percezione che noi abbiamo di di noi stessi del nostro essere profondo quando un'anima è un pochino riconciliata qui bisogna andare a risentire le catechesi dal non senso alla vita di cielo o per chi gli piace l'antico un po' più intraprendente chi sono io per poter amare queste sono le catechesi storiche perché per vivere bene questa cosa bisogna avere un'esistenza un pochino riconciliata perché se una persona sta arrabbiata con mezzo mondo sta depressa sta messa male non ha una percezione positiva del proprio io ma la percezione del nostro essere positiva cioè sentirsi a proprio agio con noi stessi ma senza essere superbi arroganti cioè io non è che sono meglio o peggio di qualcun altro sono semplicemente io con le mie dotazioni e con i miei difetti cioè la percezione del proprio io personale indipendente dagli spazi materiali è una percezione sana realistica percezione di qualità e percezione chiarissima di limiti e di miserie quando si riesce a stare in questo in questo status tra l'altro che te ne dica non sa che ne asporta a livello negativo o che ti facciano lodi e sviolinamenti vari ti scivola addosso non ti fa né caldo né freddo non c'è pericolo né di né di deprimersi né di umiliarsi né di esaltarsi scusate né caldo né freddo ancora quando stai ad ammirare è qui imparare uno spirito contemplativo i classici luoghi di vacanza le montagne l'inverno d'estate quando uno si perde a vedere l'insieme o i dettagli particolari nella loro diversità i colori dei fiori degli alberi d'estate la bellezza dei monti l'inverno chi c'ha la grazia di poterlo la neve d'accordo il mare se tu ti metti non semplicemente ma dici stop adesso mi sto a fare una passeggiata butta l'orologio me la voto perdi la percezione del tempo e in questa contemplazione hai una percezione dell'infinito così come quando si ama intensamente quando si ama intensamente non passano le ore e chi è stato innamorato lo sa cioè non passano mai cioè allora quando ora è innamorato follemente quando sta con l'amato il tempo vola vola d'accordo e quando l'amato non c'è il tempo non passa mai è chiaro che per capire l'eternità creata dobbiamo fare riferimento a quando stiamo con l'amato cioè ha fatto che il tempo vola e che si perde la percezione del tempo per cui quando noi stiamo bene con qualcuno vorremmo starci sempre perché il tempo vola pensino marito e moglie quanto devono essere felici di stare sempre insieme e che non deve cioè il tempo deve sempre volare non c'è niente di più bello proprio a tendere quando si rivedono quando stanno insieme eccetera eccetera vabbè chiudiamo queste queste parentesi comunque tutte queste cose sono percezioni anticipate della quinta dimensione perché perché nella quinta dimensione si gusta una pace senza tramonto un benessere profondo e qui tenera amata non lo dice posso aggiungerne una io ecco mi permetto guarda faccio proprio l'insolente quando arriva un pochino di divina volontà nella nostra anima succede qualcosa di simile allo stesso perché quella pace profonda proprio quel senso di benessere profondo che si avverte non è una cosa umana ed è una cosa veramente stupenda meravigliosa ci abbiamo ancora un po' di tempo andiamo un pochino avanti perché devo vivere con la mia coscienza soggetta all'inesorabile gioco del momento presente attenzione per la tua condizione di viatore su questa terra noi siamo in via qui e perché stai appena meritando la vita celeste due volte già che lo dice mediante la tua fede e le opere di la fede amici miei il giusto vive di fede la fede è la cosa più importante che abbiamo nella nostra esistenza e orienta tutta la nostra vita tutte le nostre scelte quando è viva e le opere di carità attenzione le opere di carità non è soltanto fare le lemosine bisognosi bisogna farle le lemosine bisognosi è per carità le opere prime di carità sono quelle che si fanno nei confronti di nostro Signore è l'adempimento del primo comandamento con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutte le tue forze poi c'è il secondo per carità che bisogna fare anche il secondo insisto su queste cose perché oggi pensano tutti solo ad alcune cose del secondo d'accordo perché il secondo è come dire i poveri i migranti e che caspita ne so adesso le popolazioni in guerra per carità tutte le cose che vanno bene d'accordo però magari poi c'hai tuo padre o tua madre che hanno bisogno di te o tuo fratello con cui non te parli tanto vado a fare volontariato alla Caritas che se non parlo con mio fratello chi se ne importa tanto per fare un esempio oppure vado in giro a fare volontariato alla mensa della Caritas e poi trovo a casa mia moglie o mio marito che mi mandano gli accidenti perché non sto mai con loro per dire no? comprendere l'eternità creata è già godere il cielo yep vero e perché non sono capace di conoscere bene almeno la quarta dimensione o il tempo abbiamo visto no? le prime tre dimensioni sono lo spazio no? la lunghezza larghezza e profondità la quarta dimensione è il tempo che abbiamo imparato però che scorre insieme allo spazio la quinta è l'eternità creata dice ma insomma passiamo alla quarta che io non capisco neanche bene il tempo l'abbiamo già visto la volta scorsa se uno studia la filosofia vedrà quante pagine sono state scritte sul mistero del tempo che cos'è profondamente il tempo allora risposta notiamo che questa risposta è tenermata perché non ne hai bisogno per lottare per raggiungere la beatitudine che è la cosa veramente necessaria in questa vita mortale non ti sta preoccupare troppo sti regali che ti sto facendo chiappa quello che riesci quello che non riesci lascialo perde perché tanto non è necessario ricorda sempre che l'unica cosa necessaria è lottare per raggiungere la beatitudine il creatore ha rivelato tutto quello che è essenziale per raggiungere la vita futura nell'attuale regime della fede ma non è entrato in più ampie spiegazioni perché non sono necessarie per ottenere l'ultimo fine quante volte lo ripeto a quante persone che mi fanno un sacco di domande dico ma senti un po' non lo so ma queste cose qui non te le ambiccai il cervello tanto non servono qui se il signore te le dovesse illuminare ringrazialo se qualcuno ti dovesse fa luce ringrazialo ma non te sta a scervellare tanto le vedrai dall'altra parte adesso ti pensa diventa santo ti raggiunge perché se non diventi santo queste cose non le saprai nemmeno dopo tuttavia lui rispetta il signore i lavori di investigazione scientifica dei suoi amati figli mortali e per onorare l'intelligenza che egli stesso ha concesso loro potrebbe anche darsi che in futuro conceda loro di viaggiare attraverso il tempo ed affacciarsi alla quinta dimensione voi udite udite onorare l'intelligenza che egli stesso ha concesso loro a Dio l'onora l'intelligenza che ha concesso alle creature siamo noi che molte volte non ce la onoriamo da solo l'intelligenza che facciamo gli stupidi senza esserlo nella gloria eterna quando l'onnipotente vuole farci conoscere un fatto storico non ha bisogno di raccontarcelo né di farcelo vedere in una sala cinematografica gli basta situarci negli spazi e tempi che corrispondono a quell'evento e non soffriamo nessuna molestia perché siamo ormai glorificati né alteriamo l'avvenimento storico già che resta immutabile nella quinta dimensione e se non vi piace quello che state contemplando allora passiamo ad un altro episodio sia terrestre attenzione sia di qualsiasi altro luogo dell'infinito universo e per questo basta che vogliamo farlo e senza dover pensare molto perché il nostro Dio sta molto attento a suggerirci il meglio capite? i trailers delle cose belle da vedere quando dovremo dall'altra parte ci rimanda direttamente il nostro signore perché dice ma che gli piacerà a Don Leonardo che vedessi adesso in questo momento qui gli piace ma gli suggerisco io poi lui esprime il desiderio di farlo immediatamente appena espresso già è pronto eh? tanta roba eh? questo è quello che sta dicendo tenera amata non me lo sto inventando io eh? dice meraviglioso dice Riccardo voi contemplate la storia del cosmo come noi la televisione altro che televisione e potete perfino cambiare di canale eh la televisione ci aiuta un pochino a capire qualcosa di queste cose in maniera evidentemente molto pallida no? ciò che mi lascia perpresso però ancora ritorno sempre lì è contemplare il mio proprio corpo infantile è che dai eccessiva importanza al momento presente e non la dai al passato la storia non esiste soltanto nella memoria nei libri nei filmati e nei computer essa perdura vivente senza termine nell'ambito dell'eternità creata con tutto ciò però non si parla della quinta dimensione o eternità creata lei dice è una conoscenza moderna che non si è divulgata nella tua memoria vedo anche con molto disordine che le recenti teorie logico-matematiche della relatività affermano senza comprovazione sperimentale che il mondo oggettivo della realtà vale molto di più che la sua percezione nel momento presente abbraccia tutta la storia dell'universo fin dalla sua creazione in perpetua esistenza nella tua memoria hai ben impressa questa nozione il mondo oggettivo della realtà non accade non passa e non si annienta semplicemente esiste perché partecipa evidentemente a livello creato di quell'attributo particolare di Dio che è l'avere l'essere io sono colui che sono vedete solo il nostro Dio può abbracciarlo in tutta la sua imponente maestà Dio lo possiede tutto ciò che è lo controlla tutto simultaneamente al di là dei confini del tempo e dello spazio come si intitola quest'opera qui ma ci rendiamo conto che cosa significa chi è il nostro Dio cioè che immensità che potenza che grandezza che maestà tutto ciò è molto vero malgrado questa conoscenza non sia ancora generalizzata indubbiamente la realtà del cosmo deve includere oltre a ciò che accade nell'istante attuale l'accumulazione ordinata e cronologica di tutti gli atti realizzati durante l'esistenza dell'essere quindi gli ha letto la memoria e delle conoscenze delle teorie logico-matematiche della relatività io qui balbetto quindi rileggendo capiamo qualcosa che affermano senza comprovazione sperimentale quindi non lo possono sperimentare che il mondo oggettivo della realtà quello grande vale molto più che la sua percezione nel momento presente questo ci si arriva abbraccia abbraccia tutta la storia dell'universo fin dalla sua creazione in perpetua esistenza riusciamo a leggere un altro un altro paio di passaggi perché mi dicevi che la nozione del passato è reale perché l'idea del passato è puramente soggettiva non corrisponde alla maestosa ed eterna realtà universale se ciò che è avvenuto non sia niente è falso che sia ormai passato capiamo quello che sta dicendo il passato lo percepiamo qui fin quando siamo viatori fin quando siamo legati all'istante attuale ma se ciò che è avvenuto non sia nienta continua quindi a sussistere nell'eternità creata non lo si può correttamente definire passato perché passato è una cosa che era e non è più ma non funziona così perché non si è vista sperimentalmente l'esistenza di questa quinta dimensione ultima dopo ci fermiamo ci metto un segno se no poi non me lo ricordo scusate perché gli scienziati hanno il loro potere di attuare legato fortemente al momento presente pure loro osservano e modificano le cose soltanto dall'attimo dell'istante attuale non sono capaci di guardare meno ancora di alterare i fatti del passato i quali però perdurano in tanti e viventi nel modo preciso come accanto ciò nonostante l'anima spirituale intelligentissima di questi saggi consente loro di elucubrare e di esprimere matematicamente le loro conclusioni le quali in questo argomento si trovano d'accordo con la rivelazione divina non commento non commento perché il tempo della nostra riposizione è scaduta la prossima volta ci ricolleghiamo da qui e andiamo avanti con questo capitolo che è quasi diciamo al 60% ma ancora c'è qualche piccola sorpresina da riservarci appuntamento alla prossima puntata amici cari e Dio vi benedica e la Madonna vi protegga